Bagai, lo stadio del Monza, perché la Brianza è in Serie A, lo sapete, lo sapete, qui tra meno di un mese passeranno tutte le squadre d'Italia, Roma, Napoli, Juve, Milan, qui nella Brianza, perché hanno raggiunto un sogno, 110 anni di storia mai stati in A e quest'anno accadrà, e la proprietà, Adriano Gagliani e Silvio Berlusconi, una delle poche società oggi, che può dire, c'è il proprietario italiano, anzi, Gagliani, Mozzese, Brianzolo, e vabbè Silvio, sì, c'ha la casa d'Arcle, ma rimane il milanese, comunque c'è grande eccitazione ed è emozionante vederlo qua, ed è emozionante pensare ai Brianzoli in Serie A, ma gli altri tifosi avranno capito cos'è il Brianzolo o no, tutta l'Italia dovrà passare da qui, e quindi, e quindi, prima regola, Brianzola, vula bassa e scrive i sassi, e mi raccomando ai giocatori però, impegno, fatica, perché in Brianz l'importante è far fatica, e quindi fanai gap, in bocca al lupo Monza e viva la Brianz in Serie A!